L'affetto terapeutico è una procedura che viene sviluppata all'interno dei servizi per le tossicodipendenze e che permette di poter affidare la terapia a domicilio ai pazienti che afferiscono ai nostri servizi. Normalmente i pazienti arrivano ai nostri servizi e tutti i giorni vengono ad assumere la loro terapia sostitutiva. Dopo un certo periodo di valutazione diagnostica e quindi stabiliti determinati criteri che rendono sicuro l'affidamento terapeutico e soprattutto il soggetto, il paziente idoneo a questo tipo di trattamento, vengono affidati al tossicodipendente le dosi relative ad una settimana, 15 giorni, fino a 30 giorni della loro quantità quotidiana in modo tale che loro non debbano pervenire al servizio in maniera continuativa. Questo che cosa permette di fare? Permette al tossicodipendente innanzitutto di non avvicinarsi tutti i giorni, ahimè in quella che molto più facilmente e molto cucconiamente rappresenta la prima sede di uno spaccio di sostanza stupefacente, cioè l'esterno del servizio per le tossicodipendenze spesso è abitato dagli stessi spacciatori che ricercano i tossicodipendenti immediatamente per vendergli la sostanza stupefacente stessa. Ma soprattutto permette al tossicodipendente di sviluppare un'attività di risocializzazione, di reintegro all'interno della famiglia, di un ripristino dell'attività lavorativa o gli permette di trovare un nuovo lavoro perché ovviamente non dovendo venire più tutti i giorni al servizio delle tossicodipendenze è in grado di gestire e di rendersi autonomo rispetto alle problematiche della vita e quindi non essere a sua volta, essendo stato già vittima e dipendente di una sostanza, vittima e dipendente di un trattamento terapeutico che ovviamente non si sviluppa soltanto attraverso la somministrazione di sostanze farmacologiche ma che non essendo più necessario venire tutti i giorni può essere articolato una volta a settimana, due volte a settimana, tre volte a settimana viene appunto a fare gli accertamenti diagnostici se è necessario e soltanto e unicamente a fare i colloqui, i gruppi e quindi tutto l'intero impianto terapeutico diventa più fluido. Ovviamente c'è un rischio di fronte a questa possibilità magnifica di gestire la terapia e che il farmaco che viene dato al tossicodipendente possa essere stesso diventare una merce di scambio. Io do il farmaco, lo spacciatore, lo spacciatore e il luogo del farmaco mi dà la sostanza stupefacente. Nel caso dell'associazione bubenorfina e naloxone questo non è possibile nel senso che il tossicodipendente può sì vendere il farmaco per ricevere questa sostanza ma di fatto non trova nessun compratore quindi lo spacciatore non accetterà mai in cambio della combinazione bubenorfina e naloxone in luogo dell'eroina perché questa associazione può essere somministrata soltanto per la via terapeutica, ha un effetto soltanto per la via terapeutica perché se viene ad esempio utilizzato come l'eroina e quindi introdotta per via endovenosa dà degli effetti sgradevoli e in questa maniera il tossicodipendente non gradisce avere degli effetti sgradevoli nel momento in cui decide di drogarsi ma soltanto degli effetti piacevoli. Questo rende ancora di più questa combinazione bubenorfina e naloxone quindi rende ancora di più affidabile, passatemi il gioco di parole, l'affidamento terapeutico anche perché nel momento in cui un tossicodipendente dovesse riuscire anche a convincere il proprio spacciatore a immettere sul mercato nero, il mercato delle droghe, una sostanza come la combinazione bubenorfina e naloxone di fatto immette sul mercato una sostanza che può soltanto far del bene che non può essere misusata, non può essere usata come una droga per cui anche coloro i quali non si vogliono iscrivere ai servizi per le tossicodipendenze, hanno paura di essere scoperti e che spesso cercano nel mercato della droga dei farmaci per curare lo stato di tossicodipendenza e in questa maniera lo possono trovare. Quindi è un farmaco anche sicuro in un mercato clandestino. Grazie a tutti.